Ok, siamo qui a Nobiligure per la 31esima mezza maratona d'autunno con i protagonisti assoluti di questa corsa Corrado Pronzati e Valeria Straneo Corrado ha vinto tra gli uomini però chiaramente partiamo con Valeria, mi sembra giusto Valeria allora com'è andata questa gara? E' andata discretamente bene, speravo di fare un po' meno ma alla fine mi sono un po' pesantita l'ultima parte Ma va bene, una gara di ripresa, un buon allenamento sicuramente Ok, quant'è che mancavi dalle corse in provincia di Alessandria? Non lo so, tantissimo Probabilmente parecchi mesi per cui è stato molto bello ritornare qua negli mezzoni e vedere tanta gente che conosco E' come sempre foto Si, si dai, un po' di foto, un po' di chiacchia Una pazienza incredibile No, però è bello, fa tanto piacere davvero Comunque terza posizione assoluta e il record della manifestazione che comunque insomma è sempre un piacere Prossimo appuntamento? Ma vado a fare la mezza di Bari a fine mese Spero ci sia un po' più caldo perché oggi è un po' più freddo E poi maratona invece il prossimo anno a Nagoya, in Giappone, a marzo Quindi è un po' più lontano l'appuntamento Ok, passiamo a Corrado Prima diciamo una cosa però Avete una cosa in comune Ovvio Cosa abbiamo in comune? La mitica allenatrice Beatrice Brossa Che allena tutti e due Che ogni tanto vi vedo anche in pista insieme ad allenarvi ad Alessandria Mi ha portato bene perché mi ha fatto fare il lavoro giusto E' bene, lui è un uomo loggio spizzo Sennò la Bea mi faceva morire Invece ci siamo compensati Bene, allora com'è andata la tua corsa? Il record personale? Sì, il record personale inaspettato perché sono partito diciamo al ritmo che mi aveva indicato la Bea E poi da metà gara in poi un po' gero da solo Un po' che faceva pronto E un po' la tanta umidità mi ha fatto un po' Diciamo che mi sono tenuto un po' di margine per non arrivare proprio con le ossa rotte Perché sento che tutto il prima Non era molto condiscendente per fare proprio una gara a sciola Quindi dal sedicesimo in poi ho corso abbastanza tranquillo E sono contento Personale ottenuto? Personale infatti Che l'hai cercato Sì, al ventesimo ho visto che ero 1,5 Ho detto ormai aumento un po' un po' lino e faccio il personale Ma sì, ci sta Ma sì, togliamoci questo sfizio Va bene E poi comunque sia l'obiettivo è il 30 Vado a fare la maratona Così almeno oggi sono arrivato ancora Sai che mi sa che devo andare alle premiazioni Va bene Ciao, ciao, ciao Grazie 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 a tutti